E' successo che mi ha già picciato, la casa si è distrutta, è un signo che mi ha dato l'acqua a metà la casa, non mi ha messo le catture, non mi ha messo le catture, non mi ha messo le catture. Quante persone vivono nella vostra casa? Quante persone vivono? Mi ha figli, siamo tutti noi. Tutti i bambini, stanno a scuola con i bambini, tre suoi chi ne ha freddo ancora. Come voi, un signo che mi ha detto che mi ha dato mai, perché non ti fa chi figlia, chi figlia, i figli mi non vado a dire nessuno. Grazie.